Io ho sentito diversi sindaci, è comprensibile la prensione, la preoccupazione dei sindaci, però io ho anche cercato di spiegare, so che ci sarà anche un incontro tra la direzione e i sindaci, la conferenza dei sindaci, proprio per cercare di spiegare la situazione. Oggi siamo in una situazione di vera emergenza, drammatica per quanto riguarda il personale, non troviamo più persone, medici che vogliono fare la continuità assistenziale, non troviamo medici che vogliono fare i medici di famiglia, abbiamo più di 400 zone carenti in tutto il Veneto e oggi la situazione è una situazione molto molto difficile. Quindi è chiaro che probabilmente c'è bisogno delle razionalizzazioni, degli accorgimenti temporanei, ma soprattutto salvaguardando le zone che sono le zone più disagiate, dove è più difficile raggiungere anche il presidio ospedaliero. Io mi auguro che ci sia un'inversione, ma che ci sia anche un ravvedimento da un punto di vista nazionale, perché il problema del personale è un problema soprattutto legato alla programmazione e ai vincoli nazionali.